Mi trovo a Taranto in via Leonardo Paradiso, è una piccola traversa, piccolina, vedete, a pochi metri proprio da Viale Magna Grecia, quindi una zona centralissima, a pochi metri la concattedrale. Vi rappresenterò una situazione incredibile. Guardate, rifiuti, rifiuti e rifiuti, qui i mezzi di Chima, Ambiente, Amiu non passano. C'è un porcile mai visto, ci sono certamente gli incivili che sporcano, ma da mesi, da mesi non si vede l'Amiu, non si vede l'Amiu. Questo è Terzo Mondo, caro Melucci, caro Melucci, tu sei il sindaco di una città da Terzo Mondo perché tu l'hai ridotta a città da Terzo Mondo con la tua pessima amministrazione. Caro Presidente Mancarelli, ma che condizioni sono queste? Ma la tua azienda, in questo modo, l'azienda da te diretta, da te gestita, opera in questo modo? Questo accade solo nel Terzo Mondo. Mancarelli, dove stai? Cosa fai Mancarelli? Quali sono i risultati della tua gestione? Quali sono? Quelli di produrre una realtà degna purtroppo del Terzo Mondo? E non mi dire che non è vero, non mi dire che non è vero. Ripeto, ci sono gli sporcaccioni, gli incivili che vanno puniti drasticamente, ma qui da mesi e mesi non passano i mezzi dell'Amiu, non si vedono gli operatori, qui ci sono esigenze, ci sono situazioni in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Asda deve intervenire, qui ci sono ragioni, situazioni igienico-sanitarie non gravi, gravissime, gravissime. Io mi rivolgerò immediatamente al Direttore, Dottor Conversano, perché non è possibile che si vive in queste condizioni. Qui si rischiano infezioni, infezioni, Mancarelli, Sindaco Melucci, cosa deve scoppiare? L'epidemia, il colera? Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate, e non mi venite a dire i cittadini sporchi, certo i cittadini sporcano, ma voi da mesi non venite qui, da mesi, il cittadino paga le tasse, paga le tasse, il cittadino paga l'Atari che aumenta di anno in anno sempre più e che ora avrà un rincaro del 50%, per avere che cosa? Questa merda? Questa merda? Guardate, non vi scandalizzate se dico parolacce, questa è merda, merda, guardate, guardate, si è aperto tutti, i sacchetti sono aperti, perché ci vanno gli animali, guardate, le aragoste, sono uscite le aragoste, guardate, materiale tutto, guardate, altre aragoste, pesce, qualcosa di incredibile, e non si interviene, e non si interviene, io dico che voi dovreste sparire da Taranto, dovreste sparire da Taranto, signori amministratori di Taranto, signori della maggioranza Melucci, perché vorrei che veniste qui, caro Presidente Mancarelli, lei e il Sindaco, venite qui, parlate con i cittadini, visto che Melucci ora fa il giro della città, lo porto io qui, e vedrete le reazioni dei cittadini, che non ne possono più, bene, penso di essere stato molto ma molto chiaro, ora passerò alle vie di fatto, perché devo far intervenire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'ASD, e bisognerebbe vedere anche legalmente se si può fare un'azione, perché non è possibile che il cittadino paghi la Tari e non abbia servizi, non ha servizi, questi cittadini, questi che abitano qui, che sono i fessi, pagano i servizi per non avere servizi, anzi disservizi, è come se io vado al ristorante, il piatto è vuoto, mi arriva il primo piatto vuoto, il secondo piatto vuoto, il terzo piatto vuoto e mi trovo un conto da pagare di 40 euro, ma cosa pensate, che i cittadini di Taranto siano coglioni? Pensate questo? Vergognatevi e sparite da Taranto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!